Bella a tutti, qui a Triface che vi parla ed oggi invece voglio vedere con voi il nuovo metodo che usiamo per expare visto il nuovo aggiornamento che c'è stato. Ok, iniziamo col dire che col nuovo aggiornamento che c'è stato, le Nightmare, ossia quelle modalità fatte appunto con i sigilli per aumentare il livello dei nostri glifi, adesso danno molta più esperienza. Questo è uno dei motivi per i quali il metodo che io vi mostrerò avrà bisogno di un gruppo di 4 persone e di un Dungeon Nightmare specifico, che ha un quantitativo di mostri molto elevato e che dopo ogni reset ci permetterà quindi di guadagnare molta esperienza. Il Dungeon in questione, come potete vedere qui sotto, per l'appunto è Agonia del Campione, quindi dovremo ricercare delle chiavi, ossia quelle dei sigilli, che ci daranno per l'appunto questo Dungeon. Mi raccomando, è importantissimo che sia solo ed esclusivamente questo. Come potete vedere abbiamo tre vie, una, due e tre. Di conseguenza se noi siamo in un party da 4 o da 3 persone, semplicemente basterà che ogni persona vada in una delle tre vie specifiche, questo è l'obiettivo di questo Dungeon. E all'interno di ogni via, semplicemente incontreremo una barca di mostri fino ad arrivare all'obiettivo. Ma mi raccomando, l'importante è non completare l'obiettivo, non bisogna prendere i tre oggetti e portare le pilastri, assolutamente no. Il primo step che noi dovremmo fare sarà semplicemente quello di unirci al gruppo che per l'appunto tiene la chiave. In questo caso io mi sono unito a uno dei miei compagni, eravamo già un gruppo da 4 e lui che è il leader ha aperto la chiave di questo Dungeon, quindi di Agonia del Campione. Cerchiamo di capire, io sono a 11.300.000 di esperienza, ho usato effettivamente l'Elisir per ottenere più esperienza, siamo in una Nightmare che ci darà più esperienza dopo l'aggiornamento. Il Dungeon appunto è l'Agonia del Campione e in questo caso l'unica cosa che dovremmo fare semplicemente sarà clearare una delle tre zone che abbiamo visto. Dopo aver fatto tutto ciò, semplicemente vediamo quanta esperienza abbiamo ottenuto alla fine e cosa fare nel momento in cui dobbiamo resettare il Dungeon. Ok, questa è la situazione finale più o meno, abbiamo praticamente clearato tutto il Dungeon, tutti e tre, ed in questo caso io mi ritrovo a avere 13.000.000 di esperienza. Allora, cosa bisogna fare una volta clearato tutto? Come vedete non abbiamo consegnato gli obiettivi, stiamo ancora in un partita 4 proprio per farvi vedere i vari step. In questo caso se io non sono il leader dovrò semplicemente lasciare il gruppo e generare il nuovo leader, ma in questo caso Akagume, come vedete qui sotto che è il leader, non dovrà fare altro che spostare la sua leadership a qualcun altro, quindi rendere capo qualcun altro del team. Una volta fatto questo, il Dungeon a quella persona si resetterà, ma la chiave rimarrà la stessa, quindi questa cosa serve a mantenere la chiave. Una volta fatto questo, tutti quanti noi, compreso Akagume, che era il vecchio leader, non dovremmo fare altro che lasciare il gruppo. Lollo da solo, in questo caso, ha la possibilità di mantenere la chiave. Noi tutti lasceremo il gruppo e joineremo il nuovo leader del gruppo, che in questo caso questa persona si ritroverà con il Dungeon resettato, ma ha la stessa chiave. Quindi il trucchetto, vedete, mi raccomando la cosa importantissima, dovete fare unisciti al gruppo, non fate invita. Se voi fate invita e quel leader si ritrova invitato nella vostra lobby, voi non avrete resettato il Dungeon, semplicemente avete resettato proprio tutto. Di conseguenza non esisterà più la chiave, quindi mi raccomando, dopo aver lasciato il gruppo, la cosa che dovrete fare al nuovo capo gruppo è unisciti al gruppo. Una volta fatto questo, vi ritroverete semplicemente nuovamente il Dungeon resettato, dovrete rifarmare le tre wave e rifare tutto da capo. Quindi il segreto di tutto questo starà semplicemente nel cambiare il caposquadra e non completare il Dungeon. E cosa importantissima, fare unisciti al gruppo e non invita sul nuovo leader. Io con questo vi ringrazio sempre della visione e mi raccomando, se vi servono una mano o un consiglio, mettete un commento qui sotto, altrimenti mi potete trovare in stream su Twitch. Grazie a tutti della visione, ciao!